Allora Giulia, dipende da Veronica, no? Lo sai. Vuoi dire qualcosa? No. Allora, volevo dire che è talmente bene quello che fa che all'occhio di una persona non esperta di danza potrebbe sembrare facile e fattibile. Sono veramente tanto, tanto orgogliosa di farti andare al serale. È un dieci e vai. Quindi Giulia, sei al serale. È un po' da infermina. Bello!